Comincia oggi il trasferimento dei moduli prefabricati, allestiti e montati nei giardini cavicchi in direzione dell'oratorio Don Bosco. Nei prossimi giorni saranno trasferiti proprio tutti i moduli con le sette aule, i corridoi, il gruppo bagni, l'aula per la disabilità e l'aula per gli insegnanti personale alta verso l'oratorio Don Bosco nella loro sede definitiva per il montaggio che sarà definito nei prossimi giorni e che permetterà l'ingresso a scuola nell'oratorio Don Bosco in un'unica sede già dal 15 settembre. Infatti sette aule saranno inserite all'interno dei moduli prefabricati che sappiamo essere nati proprio per essere delle aule pur nella provvisorietà e le altre cinque aule saranno invece ospitate all'interno dell'immobile dei Salisiani che è in corso di adeguamento e di ristrutturazione proprio per ospitare le aule. Sono infatti già stati realizzati nuovi impianti all'interno in corso di ristrutturazione del gruppo bagni anche per le cinque aule appunto che saranno ospitate nell'immobile e quindi grazie a questa serie di interventi saremo nella condizione proprio di far ripartire la scuola in presenza dal 15 settembre. I ragazzi della scuola Leonardo da Vinci potranno rientrare tra l'altro nei tempi previsti perché i montaggi sono in corso e sono nel pieno rispetto del cronoprogramma che abbiamo condiviso anche con le famiglie, con la dirigente scolastica e col consiglio di istituto. Un cronoprogramma che prevede appunto il ritorno a scuola dal 15 settembre proprio nel giorno dell'inizio della scuola. Sappiamo che questa è una soluzione provvisoria che caratterizzerà l'anno scolastica 2022-2023 per permettere di realizzare l'intervento di adeguamento sismico e statico sulla sede di via Garibaldi della Leonardo da Vinci. Questo è un intervento complessivo da oltre 2 milioni e mezzo che permetterà oltre agli adeguamenti in termini di sicurezza di adeguare la scuola anche alle novità didattiche, alle innovazioni che la scuola richiede e quindi rendere anche la scuola più accogliente. Quindi davvero il lavoro è serrato perché si possa ripartire il 15 settembre con la scuola nella sua sede provvisoria ma anche perché si possa partire al più presto con il lavoro di ristrutturazione della scuola media Leonardo da Vinci affinché nell'anno scolastica 2023-2024 i ragazzi possono tornare all'interno della sede originaria con una scuola completamente rinnovata.